La semifinale di Champions League tra Milan ed Inter dovrà essere trasmessa in TV in chiaro. A sostenerlo è Agcom sulla base di una norma sugli eventi di rilevanza nazionale. Per l'autorità per le garanzie nelle comunicazioni, la diretta in chiaro è prevista in Champions come in Europa League, qualora siano coinvolte squadre italiane. Agcom ha già chiesto ad Amazon Prime Video, che detiene l'esclusiva, di attivare subito le procedure di cessione dei diritti ad emittente qualificata a condizioni di mercato eque, ragionevoli e non discriminatorie.